Salve a tutti amici e ben trovati, sono Imo Smith Terry ed eccoci qui per un episodio di Crusader King's 3 Sono qui il nostro nuovo Basileus, il piccolo, piccolissimo Costantino II, pronto a continuare l'avventura di Enna E allora, è l'anno 1932, un anno importante perché ora si è in guerra crociata contro i Cattolici Che però, con noi, non sono difficolti, grazie anche ai nostri ordini di S.A.R. che sono 4-5 soldati Beh, abbiamo tutto il mondo ottosso da nostra parte, anzi, ottosso sono quasi tutti Diciamo, hanno fatto dei cristiani, che sono pochi, sono pochi tedeschi e ragionati dal sud della Francia Però è pure il nostro, non ricordo male, quindi sì, alla fine sono la Germania Lascio mostrare questo, cosa importante è che il nostro Basileus l'emmo, cioè, l'ho perso in poco tempo Rayano, suo figlio, il non nostro Basileus è Costantino I Aton, morto così, in case misteriose E soprattutto, siamo con un piccolo Costantino che ha 6 anni Siamo con un piccolo Costantino che ha 6 anni E che, insomma, potrà fare davvero pochissimo, visto che non può fare guerre O provare a entrare, diciamo, con... Provare a rimediare in modo diplomatico con i vari sovrani Quindi, cosa può fare se non pagare? Anche se qui vediamo che... Lui ci vuole bene, però è 34 Sigrid è un bel po' breve, è che lui è stato messo su... Era solo il duro di Milano, ma ci ha tolto il potere Che apparteneva a un nostro parente, nostro zio, signor Amaro Sì, nostro zio Ferrand Maledetto Quindi, maledetto lui Queste azioni sono a conto pericolose E quello che possiamo fare è anche cercare di togliere lui Dandoci un piccolo regalo, same gift, 150 Così magari trova... Ah, solo 49? Così poco E altri si aggiungono, questo è un bel problema Anzi, affrontavo la Sbosnia Però è proprio perché ero per cercare di formare qualche alleanza Noi siamo qui in guerra Questi... Chi sono questi? Amati di Firenze, non so perché Abbiamo altre armate da qualche parte De Meryl è morto Per lui si può medicarci di questi vari vassali che hanno fatto guerra Però come ti sarà a me è sapere Le mie armate Le 7000, dove sono? Le 7000 Sono qui A fare guerra al Papa Perché lui è il capo della fazione Quindi magari possiamo... Distruggere in qualche modo Perché sapere che viene distrutto E che la Corsica Va alla Corsica Che appartiene alla Nisardegna Mi sa che presto dovranno cercare di... Come dire... Combattere Per tenere il potere Perché la fazione Sta molto pericolosa Vediamo come il regno di prima piole si sta Disfacendo Distruggendo Questo è un bel problema Non ti ricorderò questo uomo che è un bel Questo è un ottimo E... Un ottimo... E... Eterios Che però non va a Eterio Come mai? Che abbiamo qui? 35, 32, 39 Sono tutti molto forti Quindi... Diciamo che sono... Lui è proprio l'ultimo Un po' in ultima Vabbè la dottore Non lì può sempre servire Abbiamo dei sovranai che sono molto abili Diciamo in questo... Nella... Il nostro uomo Lo sono anche... Andate restrando Verso un cavaliere Un mantista E quindi insomma È un'ottima cosa Tanto rubiamo la tiara papale Non ci credo Cioè nonostante non mi ha preso il papale Gli rubiamo la tiara papale Il papale dove sta? Sta qui No? Sì Ma non è tutto Non mi ho preso Noi ci andiamo a Tivoli Lo ci attaccheranno Penso Hanno su nosso alleati I nostri nemici Rivolto a caccia a Roma O almeno a Gerusalemme E infatti lo saranno a Gerusalemme Sono già 27.000 Allora so che è i nostri alleati Se è possibile Vediamo un poco Tipo il regge tedesco Si potrebbe chiamare Penso di no Lei è un 1.400 Beh so che è i vari alleati Così da portare la nostra parte Insomma qui siamo a 130 Noi mila di no Utilizziamo Abbiamo una grande guerra Importante da fare Quindi il mio Spinge affinché Combattiamo contro questi Maledetti Cattolici Noi siamo con 6% E io ho solo 22.000 armate Non posso fare nient'altro Perché cerca di Assediare il papato E poi muoce verso Eeeh Verso l'oriente Verso dall'alternasanto E che Vorrei cercare di conquistare Sembra che è 6 mesi Che succede Non mi ho armi da sedo qui Sì 360 addirittura Non riusciamo a fare neanche Sì Oddio Qui ho tutti contro di me Anche la Borgogna Scusami Sì perché Mi non voglio Cioè Erano Grazie a me sono lì E ora vanno contro di me Voglio cercare Magari questi minori Così da portare la nostra parte E provare a Farli uscire Dalla qualezza Mi sa che è un po' difficile Sono già Superiori a me Di tanto Questi uomini Iniziamo a mandarli Magari in terra Santo Attacca magari Qualche tetro qui Tipo Zurigo Vediamo un po' Se stiamo a far sito qui Con queste piccole armate Oddio Caucus La quittà Mi sa potermi Andalo sia Tutto Non posso fare altro Che questo Scegliere di Arrendermi in qualche modo Tu vieni qua Va bene Arrendermi alle loro potenze Perché io non poto fare Granché Non poto fare niente ragazzi Per lottare con tutti questi uomini E quindi Questo è quanto Proviamo magari qualche claim Se è possibile Su Lui è Pavia Non ce l'ho fare In Italia totalmente Questa è Lombardia Eh Pavia Clemo Duki Sì Pavia Eccolo qui Proviamo a fare questo Sì già Iniziamo a conquistare Almeno l'Italia Riconquistare Bene C'è come fare questa guerra santa Per liberarci Io avrei ancora Nessimene Crow No? Sì Nessimene Crow Ci dà Game Miller No Ottima cosa Ora che dobbiamo far Cercare di Portare il nostro Imperatore S Il nuovo Potente Con le sue forze E poi provare Di conquistare Tutti i territori In nostro possesso Questi 412.000 Devo assolutamente Andare In terra santa I patios Guida lì In terra santa Che qui ci rompono le scale Sono Fattibili come cosa Andiamo a Beirut Anche in altra modo Andiamo a Beirut A questo punto Mi siamo venuti Lasciate lì Chiamo tutti i nostri alleati Perché lo possiamo fare Chiamano di tutti Non mi interessa Ora cerchiamo di Ducca di Toscana Anche se è presto Dovremo cercare di Riprenderci Ciò che è nostro Intanto Nostra Counter Hanno un figlio Arsenio Contomates Arsenios Lupen Il re di di Aquitane Lo richiamiamo Iberian Vulgarian Do you speak My lingua Possiamo parlare Lingua Lei che cosa parla Ottos Dalmata Non mi interessa Poi andiamo sul greco Che è meglio Come cosa Mi sembra che posso farlo Allora Lingua Puoi tu You don't see us The local true believer Vediamo la nostra famiglia Sta crescendo Però noi Dobbiamo cercare di Sistere questa Guerra santa Contro un osso Vassallo Ma è un'azione incredibile Mentre noi Cercheriamo di Tenere forte L'impero Non abbiamo ragione La rabbia Da quando Abbiamo ragione La rabbia Chi Giusalem Creando Giusalem Qui sono i soldi 11 Su 15 Va bene Qua tanti Artefatti Da sistemare Mentre facciamo le guerre Cerchiamo di Muoverci Ripara tutto Mi sembra Se non male Sono le ultime Dove essere Riparate Con quelle che hanno Più problemi Allora You learn Greek language Si Perfetto Abbiamo il greco E nel frattempo Un attimo Fermiamoci Un attimo Che vedete Ecco Siamo arrivati Perfetto Siamo tutti qui E' ora di attaccare I nemici Pensiamo loro I nemici Le pito Si Andiamo a pigliare Questi uomini Qui Da un po' Ed è lo scappo No A incrociare Da qui Perché Adalmazia No Ah perché C'è la nostra Vedete come è che è cambiata Con il No io poi entro Greco Non mi interessa Allora 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 Non posso fare niente Veramente Sono bloccato Così in questa situazione Non sono scappani I maledetti Andiamo a pigliarli E poi Andiamo a fare male Al Caro Nostro Assata Perché abbiamo Pochi soldi Tantissimi Abbiamo persi Allora 22.000 Andate giù Andiamo a attaccare Il papa Mi sa Concederà Sì Ok Stiamo in Subietà numerica U U Attenzione Arrivano altri nemici Ma noi stiamo Qui arrivando Abbiamo vinto Dai su Eliminiamo Questi uomini Va che Già Posi il papa Tutti i suoi territori Ma nonostante questo Rimane Indipendente Forte Impressionante Qui li uniamo Per favore Meglio Peter Dammi 30 No Endorse By Your Patrick Beh mi sembra logico Sono dei bambini Che cosa possiamo fare Questo solo esiste Per ora Pazione abbiamo Per esso No Per esso Non c'è Cosa Independent Faction Marsharia Possono resistere Cioè qua c'è davvero Da conquistare Mesopotamia Jazira Nostra Sì E ci vuole bene Fortuna Dal mangia Io Potrei anche Pensare Di Come sapere Ragione Qui dell'Oriente Perché Sono quelle più Fattibili In qualche modo Dotto attacchiamo Il papato Giuseppe E' il papa Questo Ok Tu ci seguono Perfettamente E siamo anche In debito Ecco Perché Per Per 80 Insomma Vedo tanti Dei tori Devo tornare A essere Lo 2 Qui Pass Slow Proviamoci Spera che nessun Pass Ci venga Incontro Chi è Questo Mamma Mia Chi sei Tu Perché Avevi Su me Un chino Questo Restato Non lo capisco Vabbè E niente Loro le stanno Distruggendo Cosa hanno di vantaggio Un po' Se hanno qualche vantaggio Negev Negev Scusa Dove sta La contena Negev Solo questa Hanno loro E ne liberare Va bene L'avazione Oggi Un altro Indipendente Gerusalemme Ha detto Questo Indipendente E ora Potrebbe No 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 Io Siamo Valdese Sorto Dosso Siamo Davvero In tragica Situazione Perché Siamo Deboli E E tutti Siamo Indipendenti Ne E Noi Cresciamo E Potre Attaccare Tutti A 1 A 1 Provando A Resist In qualche Modo Ma Difficile Come Cosa Excellent Enforce Di Ma La cosa Buona Che Abbiamo Molto Pietà La Sapuna Quella Sarebbe Che Noi E Ma Tu che Sei arrivato Non mi Interessa Avendo Diciamo Tanti Familiari In Questa Guerre Possiamo Attaccare Poi Loro Cioè Dobbiamo Fare Ora Dobbiamo Aspettare Solo Questo The New Dice Ah Sono Io Ho La Famiglia Perfetto Questo E Ottimo Però Fra Giustalemma E che Potente 18 Uomini Allora Generoso Dirigente E Paziente Paziente Che mi Da Due Learning Dirigente Meglio Meglio E' E' Meglio Buono Che Paghi I Soldi Ma Ecco No C'è un dirigente Va Perfetto Per Per Pagli Che Che Il Caos Dove Essere Qui Diciamo Lui in Guardi Guerre Vedo Artefatti Sono in Guardi Allora Questo è 8 T A livello 3 Ragazzi Dobbiamo Fare Ora Resistere Uscire Debiti E Questo Costantino E' Ottimo Marziale Ed è Che Più Fatto E' Lui E' Jazeera Più Lui Quindi Jazeera Mi Spiace Ma Tu Lascia Il posto A Quest'uomo Qui Spera Che Lui Non Non Lascia Tutto Qui Sono Chi De Soldi Lo Facciamo Ovviamente Perfetto Africa Africa È Barra Quindi Un Poco Ora Una Barra Mi Odierà Però Vediamo Se le Pazione Così Sono Disbar Sono Per loro Lì Però Magari Presto Lasciano Tutto No 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 I Widnot Ok Fermati Fermati Tutto Altra Guerra Regolosa Che Abbiamo Tutti I Nossi Alleati Familiari In Questa Guerra Così Prima Che Lo Emirato Si Peragos Si Emirzab Si Tutti Li Chiamiamo Così Vediamo Di Bloccare Quelli Grossi Così In Qualche Modo E Principe Bados Si Chiamalo Ducali Toscana Dove Sta Zipriamonte E Toscana Perfetto E Qui Mettiamo Ovviamente Navarra E Jazeera E Questo È Quanto Ora Non siamo Più In Debito L'Africa Do Sta Sta Qui L'Africa Ma Là che Non sono Mi Alleati Quindi Non Posso Fare Niente Qui Mentre Gli Usalem Potrei In Qualche M Attaccare Trente Loro E Ma Qual È Che Io Attacco Gli Usalem E Loro Possono Attaccarmi Roma Quindi Lo Cerco di Essere Molto Veloce Metti Qui Il Punto Rise All Year E All Order Possono Tutti Già Chiamati L'Africa Come Messe Come Potenza Militare 10.000 Uomini Sono Fastidiosi Però Se Esisto Posso Fermarli In Qualche Modo De Sembra Che Posso Uccidere Lo So Nel 2000 Quanto Perfetto Come Numero Siamo Superiori Almeno Per Quindi Non So Se Verranno Da Noi Qui Stavo Chiamando Un Pa Di Giorni Dimmi Che Ne Ho Di 21.000 Come Possibile 21.000 Come Possibile 15.000 Do Li Ha Questi Forze In Più Scusami Non Rotture Scadere Questa Spera 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 Che Partano E Allora Stavo Partendo Piano La Capitale Piano Oggi Stanno Questi Stanno Muovendo Perfetto Siamo Noi 6.000 Almeno No Stavo Partendo Piano La Capitale Spera Che Cada Pre 6 Mesi Ai 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 Questo Un bel Problema Perché Allora Posso Andare A Roma Attaccarmi Roma E Io Sono Qui Non Posso Muovere Quindi Manda Sono Su Pavia Ne lascia stare Allora Solo Pavia Non mi interessa Sinceramente I miei Stanno Tutti Venendo Per esempio Vanno Verso Lì Verso Roma Quando ci Sta Cinque Mesi Addirittura Solo Cinque Mesi Uniamo Le Queste Troppe Lo Spai Che Qualche Alle Qualcuno Così Piegherei Ma Mi Siamo Difficile E Allora Qualcuno Che Sta In Italia Despo Di Certo Chiama Despota Di Vallacchia Chiama Despo Certo Despo Visto Di Cartagena Chiama Spero Che Mi Aiutino Limiro Di Beha Chiama C'è Quanto Di Fortissimo Che Despo Vaca Re No King Di Andorosia Chiama Qui Cade Fra Un po' Di Giorni Perfetto Perché Sono Già In Tipolezza Loro Stanno Penso Che Siano Qua Io Parto Con L'handicap Però Loro Attacco Vedete I miei Alleati Perfetto Sono I Grandi Stupidi Perché Se Prendono Roma E Prendono Ma Io Sarei Fregato Altamente Fregato Mi ce Lo Attaccano Me Vediamo Quanto Viaggio Sarem Dai Su Quando Sette In più Vediamo Anche Questo Tap Three Interessante Come Cosa Idea Di Prendere Altri Anche Partire Invece E Andare In Africa Spero Che Loro Non Mi Attacchino Andiamo Sussa Spero Che Loro Non Attacchino I Teritor Lo so Ancogli Andano Che Combattono Perfetto Quindi Adesso Va bene Così Io Chiamo Tutte Che Possono Mi Interessa Perché Quello Mezzo Nudo Algeri Vai Tu Così Mi Aiuto Magari Nel Territorio Lì Che Stanno In Africa Sebastiano Vai 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 Ci Ho messo Tanti Contomani In giro Per il Mondo Cioè Possiamo Altri Contomani Scusate Dove Sta Dinastia Aus Cioè Contomani Sono ovunque A parte Il Kalingo Bertello Qua sono Marid Com'è Possibile Ah Sempre Contomani Spero Sono Anche Qui Contomani Siamo Tutti Contomani Siamo Ovunque Io Sono Questi Italiani Che Cioè Questo Re Che È Un Traditore È Morto Il Padre Che Dispiacere L'Esta In Carcere E C'è Eustachios Intanto Il nostro Piccolo Sta crescendo Con una Compressa Molto Buona In futuro E Pesso andremo Anche in debito Vediamo 121 Mi ha Addirittura Armata Vediamo L'Africa L'Uro Sta Sta Lì Ok Stanno Partendo Pensavo Allora A Roma No No Stanno Nell'Usolem Mi sa Che vanno Lì Invece Sbarcano Attenzione Stanno Sbarcando No Non è che Lo sanno Che fare Ok You get A pet Lo chiamo E Mite Molto Calmo 64% Che Ho preso Solo E Allora White Peace Prepa Accettare Potremmo Una White Peace Insieme Andiamo Un po' Dove Vanno Questi Motor Rivale Preto Stress Grazie E Lo Sono Qui Almeno Ma voi Sono con me Alleati Sì Sì Quindi dove Stanno Giusalem Si stanno Muovendo Ancora Non so Neanche Dove Andare Perfetto Ora Vengo In Africa Sono Noi siamo Superiore Domenica Qui Potremmo Devastare Il materiale Gia Scappano Di La città 77% 93% La Vinciamo I Noi Vinciamo A Intercettare In Cato Andiamo A Prendere Tunisi No Sono scappati Il mio Prendere Tunisi Va bene Non Non Possono Scappare Vengono Cosa Africa Che Contratto Avresti Scusami Non Posso Niente Peccato Ma la guerra è vinta Enforce Dimanda Meno 2 Rimangono Sotto il nostro Dominio Disband All Prima In debito Perfetto Ragazzi Soldi Dal Costumo Si Ora Vediamo Un poco Monified Contract E Un normale Contratto Mentre Gerusalemme Che Molto Grande E Come Il suo Contratto Normale Pure Lui E Allora Questo Uomo Già Vedete Che Tranquillo Con Noi Se Io Trovo Qualche Title Che Posso Togliere La Palestina No Sub No E Lui Qui Quindi Deve Assali In Pratica No E Allora Sono In Debito Se C'è Un Ransom Normale Non Viene Bene Interno Che Un Un Aiuto Un Gancio Che Però Non Mi Serve Tanto Per Ora Io Vorrei Rendere Liberi Comperò E Difficile Rakt Vassal Questo Uno Qui Prince Suo Figlio Più Sia Short Rain Adesso Non Ci vogliono Male Potremmo Fare Questo A Renderli Liberi Senza Alcuna Condizione Voglio Fare Questo Perché Perché Voglio Averci Il Buone Quando Alla Fine Loro Ani Loro Regni Ma L'Africa Solo Un Po Problematica Però Hai Le Soldi Con Te No Sono Tutti In Debito E Non Vi Vedo Anche Opino Su Loro Sinceramente E Allora Liberati E Sono Liberi Per Ora Poi Reggoro Con Un Posto Tu Jazeera Puoi Fare Qualcosa Vai A Capua Tu Stai Integrando Tu Stai Lavorando Ok Reggoro Poi Essere Un Ottimo Niente Quanto Giuseppe Quasi Quasi Che Miglioro Sinceramente Mentre L'Africa Non mi Dà Niente Di che Direi Un po' Africa Che mi Dà 24 26 28 Di Prima Zia Io Voglio Togliere Questo Qui Per Dianamo Non Posso Fare Niente Non Posso Fare Niente Io So Fai Quella Questo Ragazzi Un Poco Resto Crane No 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 Dove Cambiare Cultura Lì Conti Puglia Avrebbe Anche Tutta C'è Lì Sarebbe Tutto Genova Che Non Sare Ma Come Cosa Come Tenzi Sono Superiore Ma Non Posso Fare Niente Per Ora Lui Sta In Guerra Duke Ferran Claim Italy Quindi Piemonte Questo È Buono Che È La mia Famiglia Però Vorrei Tutti Conquistare Primo Piano Allora Io Posso Essere Ficco O Thrusting Thrusting Mi Darebbe Un Tratto Di Un Sì Entri Come No Due Ficco Vivo Insieme Lo Stewardship No Grazie Entri Più Uno Ma No Content Per Dove Lo Intrigo Lui Cos'ha In Penso Buono Intrigo Vorrebbe Anche Perdere Per Dentri Così Per Content Antimio Sarbius 50 150 Spine Spear Vediamo un po' che ricostruisce anche il nostro uomo ora Renderlo completo nelle sue armature Pieni per i video di oggi Allora Qui Alla weapon L'armor Cosa ci può essere di meglio No Così viene da riparare Assolutamente Allora qua c'ha l'absiricon Che ci dà prestigio E assist Scheme resistance Più 2 Per le lingue Qua Poi ho trovato qualcosa di buono Non c'è niente di buono qui Pietà Perde Qui Fertilità Un bel vestigio Fertilità Prestigio Va bene Almeno per ora Però questi cominciano a ripararli Adesso Scusami Ne ho due Togli Non ho niente dei che Diciamo Prestigio E ci Rai L'opinion Ho davvero Terribile Devo dire Questo bisogna sistemare Meno un poco Regalia E' ottima Ci dà Fertilità Prestigio Merced Di coste Diretta opinion Coppio Ci dà più pieni E Ci dà più Cosa 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 E' Pro No Siccome va bene La corona C'è La tiara Ci dà Un prestigio Interno Qua Solo 016 E shot Redduration Non Prestigio Questo Poi ci pensiamo Paghiamolo Ma non c'è Mere soldi Il già staccare Lui perde opinione E' Il Pontus Che Stai attenti Quindi Qui siamo A posto Antico Non c'è Mettiamo Magari Average Eccorsi Siccia Che è un 19 O mettiamo Geraldo Si Appoint Va bene Vedo un Vassallo Asturia Perché Suo figlio No Perché Pede Asturia Scusa Lui Chi sarebbe Lui Il mio Vassallo Imane A me Fedele Scusa Anche dopo La morte C'è il figlio Che non Nessun altro Lice Quindi Non ci Può essere Di problemi In questo Accumati In carcere Ravenna No Pascalis Me Seba Seba No Sono Per cose Tutte Quanti Può Cagliare Molti Titoli Ducati Ma No E Guerre Non posso Farli O Poi Si Potrei Fare Guerre In effetti Il Tirolo Il Tirolo Estò Crane O Despo Pascalis No Sono Già Dei Nobili Quindi Non Vole Crane Potremmo Restaurare Però Una piccola Quellicione Che non Mi Interessa Comunque Ragazzi Per essere Il nostro Caro Basileus Costantino VI Sta Resistendo Difficilmente Ma Sta Resistendo Qui Sono Altri Familiari Potremmo Sposare Tutti Sotto Nostra Mare Quindi Non Possiamo Veli La Nostra Corte Sotto Il Nostro Favore Nel Frattempo Lui Ha Ormai 12 Anni Fra Qualche Anno Vorrebbe Essere Capace Di Fare Tutto Ciò Che Può Fare Un Soprano Sia Cambi Tutto La Cultura D'armata Non Mi Interessa Regione Ottossa Va Più Che Bene Un Ottimo Progress E Buono Sia In Learning Devo Dire E Meno Intrigo C'è Anche Intrigo E Meno Instruorship Marziale E Diplomacy Noi Siamo Appunto Di Questione Focus Marziale Come Vedete Però Non Fa Niente E Presto Deve Molte Guerre Fra Tutti Forse Il Cacaso Perché L'Azo Sia Si Dipende E Ottimo E Una Guerra Anche Contro Porremmo Noi Fare Guerra All'Azov E Cacaso Sono Divisi Sarebbe Un'ottima Occasione Faccio Guerra A Quest'uomo Sono In Baccio Con L'U Va Bene Però Si Potrebbe Fare Dallante Do Per De Territori Grandissimi Grandissimi Loro Se Georgia No O La Georgia In Sè Proviamo Anche Vassalizzarlo Comunque Ragazzi Siamo Qui Di Oggi Lascia Un Like A Commentare E Di La Vostra In Vi Sono Bate Fatto Iscrivete Al Canale E Attivate Campanellina Per C'è Notifica Un Video Che Usciranno E Vi Conseguimi Su Canale Viola Live E Su Facebook Instagram Tiktok Così Per Tiktok